La carabina, la saetta, ma anche l'elmo dei corazzieri, la daga e il pennacchio rosso, i simboli dell'arma dei carabinieri al centro del nuovo calendario 2017. Nelle tavole sono rappresentati diversi stili con cui l'arte grafica si è evoluta nel tempo, a partire dall'anno di fondazione dell'arma dei carabinieri, il 1814. Il calendario, la cui tiratura ha raggiunto 1.300.000 copie, di cui quasi 10.000 in altre lingue, nacque nel 1928 e dopo l'interruzione post bellica dal 1945 al 1949, tornò a rivivere nel 1950. Da allora è stato puntuale interprete con le sue tavole delle vicende dei carabinieri e della stessa storia d'Italia. Il calendario di quest'anno è un calendario tipicamente rappresentativo dei simboli. Abbiamo voluto quest'anno identificare l'arma dei carabinieri nei simboli che l'arma dei carabinieri ha rappresentato nel corso di questi ultimi due secoli di storia. Si parte dalle uniformi, dal pennacchio, la daga, fino ad arrivare a quelli che sono gli ultimi simboli che hanno rappresentato e che rappresentano i carabinieri per tutta la cittadinanza, che sono il 112, la saetta e il nucleo radiomobile. Grazie a tutti.